Grazie a tutti. Grazie a tutti. Feature per la batteria, dove un brano era veloce, quindi c'era questa melodia che è un po' come quella che va suonata appena adesso. Però Count Basie lo ascoltò questo pezzo e disse no, non mi piace così, proviamo a farlo lentissimo. E allora ci piacerebbe suonarvi questo qua, quasi per mandarvi a passare questo sabato sera, il resto del sabato sera, belli e rilassati, tranquilli, così dormite bene, bevete bene, fate un po' quello che volete. Però questo brano si intitola Leo Darling, piccola cara e ci piacerebbe farla in una maniera estremamente acustica, proprio giusto per... Grazie. 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 come avete notato non si è alzato nessuno vi salutiamo forse cambiamo programma facciamo un brano breve perché animali io avevo un cane che poverino andavo in giro a suonare questo quadro e lui me lo immaginavo in cucina quegli orologi da cucina guardava l'orologio e si teneva le zampette che non c'hanno le mani andavo a portarlo giù il cane quindi facciamo un brano breve come la bestia sta lì quest'animale che sta lì dice quando sto guarda l'orologio che muove la cosa facciamo noi quando siamo in macchina che non c'è l'alpeguizzo anche a una pantera Giuseppe Bassi introdurrà il prossimo pezzo di cui assolutamente non abbiamo idea questa è una jump station esatto grazie 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 Grazie. 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 Grazie Paolo. Grazie. Grazie Paolo.